Novax mi fate schifo, vi curerò ma senza parlarvi, sappiate che vi disprezzo. Sono queste le frasi più sconcertanti racchiuse in un post pubblicato sui social dal primario del pronto soccorso del San Salvatore di Pesaro. Umberto Gnudi già da ieri è finito nel mirino dei Novax, dei Freevax e di alcuni movimenti che hanno chiesto alla regione di rimuoverlo immediatamente dall'incarico con misure anche disciplinari affinché, si leggeva in una nota del Comitato Salute e Diritti, non possa nuocere ad alcun paziente che non corrisponda ai suoi gusti personali. Sul profilo Facebook sono apparsi tanti commenti di critico di vicinanza, anche Gnudi ha cercato di correggere un po' il tiro. Temo che la frustrazione con la quale ho scritto il post lo abbia reso irritante per chi ha idee diverse e di conseguenza abbia fatto sì che se ne travisasse il messaggio, ha scritto il medico, che ha aggiunto, non posso provare empatia per un atteggiamento distruttivo ed egoista, qual è il rifiuto ideologico del vaccino. La pieta spera il paziente, sempre presente, e cresce esponenzialmente nel caso di persone esposte loro, malgrado al virus, perché familiari più in salute hanno deciso per loro di non vaccinarle. Vedere morire boccheggiando un anziano mi fa schifo, ha concluso Gnudi, e quando nell'ambulatore accanto il medico che sono curerà, in scienza e coscienza, l'autore del contagio, l'uomo che sono non potrà provare rispetto per lui. Intanto, all'ordine dei medici di Pesaro starebbero arrivando esposti contro Gnudi, ma il presidente dell'ordine, Paolo Maria Battistini, contattato telefonicamente più volte da noi, non ha mai risposto. In ogni caso, condivide lo sfogo del primario. Infatti, al Corriere Adriatico, ha detto che quel post è uno strumento provocatorio che cerca di spingere la gente a vaccinarsi. Le segnalazioni, come da prassi, saranno valutate nel corso del prossimo Consiglio dell'Ordine, ad appoggiare il pensiero di Gnudi e anche la presidente dell'Ordine degli Infermieri, Laura Biagiotti. Io capisco che sicuramente stiamo vivendo tutti delle grandi tensioni. Grandi tensioni e anche noi, come professionisti, comunque siamo delle persone umane e abbiamo anche noi le nostre paure, le nostre famiglie. Io in prima persona ho perso il babbo proprio per causa del virus, sono io stata in prima persona in terapia subintensiva, quindi conosco bene cosa significa questo virus. E capisco anche da operatore, perché lavoro in ospedale, cosa significa affrontare tutti i giorni le difficoltà che troviamo. Io penso che in molti concordino il suo pensiero, di tutti noi operatori sanitari e non solo. Non in pieno, nel senso che sicuramente può aver avuto un momento di tensione e di difficoltà, per dopo magari turno esagerato anche di lavoro, perché credetemi, noi lo facciamo in prima linea. Abbiamo sposato questa professione sanitaria e quindi non dobbiamo trovare scuse, ma è anche vero che stiamo lavorando in un caso di pandemia, cosa che forse leggevamo solo nei libri. Forse neanche ce lo immaginavamo di arrivare a questo. Stiamo vivendo con le mascherine giorno e notte. Io mi sono permessa di toglierla perché in questo ambiente sono sole ed è arieggiata. Ma viviamo con la paura, non ci sono più i sorrisi, non si comprende più le parole. Non possiamo ignorare questo. D'altra parte, invece, c'è chi non ha proprio tollerato quelle frasi scritte da un medico, per di più, del servizio pubblico. Avvocato, lei che cosa ne pensa di queste dichiarazioni? Penso che sono delle dichiarazioni estremamente forti, soprattutto perché provengono da un primario di un pronto soccorso che come tale è un luogo di prima cura e di emergenza. Il primario, soprattutto, ha un ruolo fondamentale perché è colui che gestisce e direziona tutta l'attività del pronto soccorso. E dal punto di vista legale si è mosso qualcuno? Dal punto di vista legale si sono mosse tante persone da tutta l'Italia perché la dichiarazione è stata riportata in notevoli quotidiani e anche siti internet e tante persone si sono sentite lese, non curate, non tutelate dalla sanità pubblica. E la sanità pubblica è un diritto del cittadino. E quindi, sostanzialmente, c'è una lesione del diritto alla salute, ci sono una serie di violazioni diontologiche per cui tanti cittadini si sono attivati nel chiedere di depositare delle denunce e delle denunce sono state già depositate. Chiediamo che intervenga la procura perché si possono esprimere le proprie idee, come è giusto che sia, però dire che le persone fanno schifo o che non curerà le persone nella stessa maniera ma non gli rivolgerà la parola sono dichiarazioni estremamente forti perché il codice diontologico prevede che un medico si occupi non solo dello stato della salute ma anche dello stato psicofisico. Questo lo prevede anche l'articolo 32 della Costituzione, per cui assolutamente sì. e ci aspettiamo che intervenga anche qualcuno dai piani alti dell'Asur.